Di questi tempi ripresi a compartire le mie giornate come avevo fatto nella mia prima giovinezza, quando mi pareva che le ore non ce la facessero contenere la mia dirompente avidità di vita, era necessario che l'attesa non avvilisse lo spirito della nostra corte e di sicuro non si sarebbe avvilito se io avessi mostrato il viso sereno. Gli aiuti questa volta dovevano offrirmeli i miei amici e tra loro scelsi i più congeniali al mio spirito, assegnando a ciascuno una parte da svolgere secondo il loro temperamento. Li chiamai in cuor mio i dilettosi. Fra questi di statura e qualità diversa spiccava Bernardo Bibbiena, non ancora cardinale, che venne a confortarmi per lettera quando Eleonora fu partita e la forma vuota della sua persona si aggirava ancora per le camere. Il mio amico si trovava alla corte di Urbino e di lì mi scrisse cose tanto gaie e saporite che restaurò i nostri umori. Era atonico lo spiritoso svolgimento del suo raccontare nelle giocose finzioni, per esempio nell'accusare Elisabetta di severe ritorsioni. A lei non finiva di sgridarlo per non aver fatto parte della comitiva annuziale quando egli, poveretto, giaceva a letto colpito dalla gotta e seguitava con molte bizzarrie frizzanti rifacendo il verso a se stesso, con il suo svelto linguaggio alla toscana tutto a culei e senza affettazione. Lessi la lettera e poi la rilessi ad alta voce alle mie donne e ragazze, compresa Alda Boiarda, eletta da lui come favorita. Troppo presto si aggiungeva alla firma confidenziale il vostro moccicone, come nei nostri paesi usiamo dire per balordo. Dopo un'ora di lettura e di commenti andammo a letto, meglio disposti a sopportare i fantasmi notturni e da quel giorno le lettere del moccicone fecero avvenimento nelle mie stanze di castello. Chiamai a raccolta i musici e imparamo strambotti nuovi. Marchetto faceva miracoli e la canzone sua più celebrata, forse che sì, forse che no, apriva ogni nostro concerto, dando l'avvio agli esercizi armonici. La frottola che iniziava, rotta e laspra mia catena, ch'io son fora de prison, fra tutte ci pareva di buon augurio e la cantavamo a quattro voci, a ritmo a lacre, con accompagnamento di viole. Presi anche ad uscire la mattina con alcuni ufficiali di castello per ispezionare le rive del Mincio e del Po. Avevo inventato una foggia asciutta di vestito per cavalcare, di panno turchino oscuro, orlato di galloni argentati e sopra vi portavo a tracollo una sciarpa azzurra ricamata alla francese. Se non fosse stata la vasta gonna, mi sarei sentita capitano di milizie. Mentre ideavo quella foggia mi venne fatto di pensare come la moda dei nostri tempi fosse più confacente agli uomini che ha le donne per essere in loro molto ornata, ma snella a confronto di quella nostra, troppo espansa e talvolta così infoltita di tessuti da far pesare il vestito anche su chi lo guarda. Ammetto che anche i nostri abiti abbiano talvolta aria nobile e grandissima grazia, ma bisogna molto studiarli nei rapporti tra il volume dei corpi e la qualità e il taglio dei drappi. Una mattina ci spingemmo fino alla chiusa di Governolo e mi si agghiacciò il sangue. Passavano sull'altra riva costeggiando il mincio pattuglie francesi e tedesche trascinando i loro cannoni. Più in là, sul rialzo di terreno, si scorgeva un accampamento. Soldati si riposavano intorno ai fuochi, sulle tende brillavano i gigli d'oro di Francia. Poveri contadini, dalle facce sconsolate, consegnavano con movimenti renitenti salsicce, anatre, polli, cereali in sacchi. I soldati, ridendo, afferravano ogni cosa. Ci erano vicini, dunque. A pochissima distanza l'assedio era visibile. Preceduti dal nostro araldo con lo stendardo gonzagesco, raggiungemmo la chiusa. Accolti dall'ingegnere soprintendente, un mantovano di faccia aperta e piccoli, prontissimi occhi turchini, che mi mostrò il congegno meccanico e lo fece azionare agevolmente. L'ingegnere aveva una voce rassicurante. Non temete, signora Marchesana, mi disse. Mantua è imprendibile. Al vostro comando sarà circondata dall'acqua e nessuno potrà offendere la città. Gli sorrisi, per intesa, ma tornai in castello appenata. E qui trovai ad aspettarmi Tolomeo Spagnoli, il consigliere favorito di Francesco. Sulla sua faccia volpina, sempre atteggiata ad una maschera di fissa deferenza, non si poteva leggere nessun presagio. Tornava da Venezia, dove gli avevano permesso di entrare nella torresella a colloquio col suo signore. Esclamai, andandogli incontro, Francesco, come sta lo sposo mio? Che cosa dice? Sta male, mi risponde lo spagnoli, ma comincia a respirare. Poi, mostrando una improvvisa gaiezza, riprende. Grandi notizie, signora Marchesana, grandi notizie. Domando se vi sono speranze nuove. Altro che speranze, i veneziani vogliono nominare il Marchese capitano generale della Serenissima con il massimo onore. Sarà libero e inchinato da tutti. Rapidamente mi si disegnano in mente le tende dell'accampamento con i gigli del re di Francia tanto vicini e vedo la fila dei cannoni imperiali. Libero, grido. Libero da che cosa? Potrà tornare a Mantova a difendere la sua città? Risponde infatico lo spagnoli. È una follia, esclamo animata da una subitanea percezione della realtà. È una rovina. Ai francesi, agli imperiali non parrebbe vero di occupare Mantova e basterebbe poco all'imperatore per dichiararci decaduti dall'investitura del feudo come traditori. Credevo di darvi una felice notizia. Mi accorgo che non vi importa di veder libero il signor Marchese. Ma non immaginate niente dunque. I veneziani vorranno tenere il loro capitano generale sotto sorveglianza e sarà in altro modo ancora più prigioniero di adesso e noi saremo esposti a tutte le rappresaglie. Lo spagnolo mi si para innanzi. La maschera di rispetto gli è caduta dal viso e mi parla con impudenza. Signora, state attenta. I veneziani dicono da tempo che volete tenere vostro marito lontano da casa perché avete voglia di governare e anche il signor Marchese lo dice. Non può essere, urlo. E poi non mi importa. Francesco mi accusi, mi offenda. Mi previ del suo amore, purché non accetti una simile vergognosa offerta. Gli resisterò, gli conserverò lo Stato ad ogni costo. Non può tradire la Lega, capovolgere i suoi impegni, diventare lo stipendiato dei nostri nemici e badate a voi, signor Tolomeo, che non vi sfugga una parola di questo insensato disegno. Il popolo deve essere certo che il suo signore è un uomo leale. In quei giorni, andando e venendo a colloquio con capitani delle fortezze poste verso Oriente, ebbi un soprassalto di energia quasi feroce e spiccai l'ordine che girò per l'Italia e l'Europa. Ai nostri capitani raccomandavo di tener testa con tutte le forze alle truppe della Serenissima e ascoltassero bene, casomai i veneziani conducessero sotto le mura il Marchese di Mantova, minacciando di ammazzarlo se non fosse stata loro consegnata la fortezza, ebbene non per questo dovevano commuoversi e aprire le porte. Riferite le mie parole al re di Francia, egli inebbe le lacrime agli occhi. Non so se per ammirazione o per pietà di vedermi ridotta a tale eccesso. Qualcuno mi giudicò di crudele animo, tal un altro una virago. Non me ne curai. La primavera portò più gravi affanni. Il doge Loredan protestava perché nel Mantovano si riforniva di Vettovaglie Verona, la città ribelle. Giulio II stentava a levare la scomunica Venezia e l'imperatore Massimiliano pronunciò per primo la parola ostaggio riferita al mio Federico. Lo richiese fulminandomi con un tono di autorità imperiale al quale risposi che per nessuna ragione al mondo avrei dato fuori di casa un delicato fanciullo che toccava appena i dieci anni. Il papa mi incitò a resistere dicendo che non fossi così pazza da privarmi del mio primo genito e figurarsi se non ero con lui. Dopo un mese il re di Francia mi fece la stessa richiesta con una lettera perentoria. Alzo in alto le braccia come per ripararmi da un peso che stia per piombarmi addosso mentre il mio pirrodonati con voce seria e smorente mi legge traducendolo dal francese la lettera regale. Non avevo che parole da opporre al volere di un re tanto potente. Alfonso mio fratello mi esortava a consegnare Federico. Gian Giacomo Trivulsio scrisse per indurmi ad obbedire dato che lo strapotere francese dominava ormai l'Europa e tutto questo come avevo previsto. Era dovuto all'insensata proposta dei veneziani di nominare Francesco il loro capitano. Nessuno si fidava più del marchese di Mantova. Spedii immediatamente uno dei nostri migliori diplomatici l'acutissimo soardino in Francia con otto pagine di istruzioni suggerendogli frase per frase il mio discorso di diniego. Riducendo in parole il convulso moto dell'animo assicuravo, giuravo, protestavo la mia lealtà senza un cedimento. Affermavo contro ogni verità di aver capito che solo il re di Francia avrebbe potuto rendermi Francesco perché il papa non aveva messo la sua liberazione tra le condizioni poste ai veneziani per la revoca della scomunica. Riconoscevo dunque a re Luigi ogni potere ma gli negavo mio figlio, fanciullo fragile ancora governato da donne. Mai avrei consentito a darlo. Fagli cambiare clima, cibo, abitudini sarebbe stato ucciderlo e morendo lui anch'io l'avrei seguito. Da marzo si andava a maggio e l'arciere invisibile che puntava su Federico scoccò un'altra frecciata. Mio figlio è ora chiesto in ostaggio da Venezia e chi lo chiede per consegnarlo alla Serenissima è suo padre. Pirro Donati che mi aveva portato la lettera di Francesco si sgomentò a vedermi ridere nervosamente leggendola. Mi sembrava di essere la commedia quando ogni scena cambiano i recitanti. Tutti invaghiti di un solo oggetto che ognuno si crede in diritto di possedere. Ero fuori di me. Vacillavo. Una notte mi destai di soprassalto e mi parve di udire un gemito lacerante. Ebbi l'impressione che mio marito fosse nella camera e presi a parlargli ad alta voce. Francesco non ti ricordi chi sei, chi siamo? La prigione, questo isolamento dal vivere con gli uomini ti ha tanto mutato? Ti fidi dei tuoi nemici e mi ordini di consegnarti nostro figlio senza pensare che vi avranno in mano ambedue e io resterò sola con i puttini e le figlie? E che dirà il popolo? Giudicherà bugiarde le feste che abbiamo fatto per celebrare le disfatte della Repubblica di San Marco. Se ti dichiari alleato dei veneziani, saremo invasi dai francesi e imperiali. Sii paziente, sopporta ancora. Mi sto dibattendo tra nemici smisurati e tu lo sai e sai che ragiono giustamente. Amo te più di quanto tu ami te stesso e sta certo che se fossi sicura dei veneziani ti darei Federico, Ercole e Ferrante, tutti figliuoli, ma conosco l'ambiguità dei tuoi carcerieri, i loro fatali giochi. Mi sembrava che gli fosse vicino e che io potessi fargli arrivare le mie parole. Mi ritrovai rabbrividente tutta sola e la notte di maggio fresca e profumata fu un tratto colma d'ira. Mi rifiutavo di accettare che Francesco non capisse le cose che io così chiaramente disegnavo in ogni loro correlazione politica e solo mi ispirava una furente pietà quella sua voglia cieca di venire fuori dalla torresella, da quella stagnante prigionia. Le mie parole divennero una missiva al doge. Quando la lettera arrivò a Venezia, i signori del senato mandarono di mattina presto i loro armigeri alla torre perché Francesco, svegliato di improvviso, sapesse ciò che decideva sua moglie. Egli leggeva e bestemmiava, piangeva e si condoleva ad alta voce con se stesso e mi chiamava puttana responsabile della sua morte. Se non gli davo Federico, minacciava, mi avrebbe tagliato le canne della gola. Disgraziatissimo lui ad avere una mogliera che voleva far tutto a suo modo. Piero Donati, freddando la voce nello sdegno segreto, scorreva i fogli portati di persona da Tolomeo Spagnoli senza alzare gli occhi e il mio pensiero presa un'altra strada. Stavo ferma, stringendomi al bracciolo della mia scranna. Sentò ancora quella forma arrotondata e levigata come un raso ligno sotto le dita. La mia natura, pronta ad ogni cambiamento di ipotesi, mi invitava ad un temerario salto. E se quella reazione di Francesco fosse una finta, se quella intolleranza smodata fosse un accorgimento per dirmi, ti ho capita, recito una parte per ingannare i nostri nemici, esagero perché tu mi intenda, ma tu sii fedele alla tua parte. Altre volte c'era capitato di accordare ad uno stesso fine le nostre diverse azioni e mi dolevo ora di non aver concertato fra noi un cifrario segreto che ci rassicurassi a vicenda. Sentivo il pericolo di scivolare in una spirale e ardentemente captavo tutti i possibili segni che potevano aiutarmi, anche lontanissimi. Mi afferrai al pensiero che Francesco, forse senza averne la coscienza, mi comunicasse una sua interna verità incerta, nebulosa anche per lui, ma che lo esprimeva veramente. Era sempre mio marito, il mio sposo, altra persona da quella che mi ingiuriava e disconosceva le mie azioni. Non volevo perderlo e nello stesso tempo l'idea di cedere mi faceva orrore. Mi vennero alla mente frasi di un colloquio breve avvenuto prima che Leonora andasse a marito in una delle tante giornate inquiete quando il suo caparbio rifiuto di sposarsi mi tormentava. Una mattina, appena abbigliata, spinta dal rovello quotidiano, mi ero diretta senza alcuna compagna verso la cancelleria. Ai loro tavoloni stavano i miei segretari di fiducia, Benedetto Capilupi e Pirro Donati. Benedetto parlava con un gentiluomo straniero, uomo di studio o uomo di segreteria, vestito di panno rosato, schietto. Era costui di stature di persona non sovrabbondanti, di testa piccola, di viso stretto, dal mento lievemente scivolato. L'occhio era scuro e penetrativo. Con il Capilupi contavano ducati sulla tavola e li raggruppavano in file uguali. Ristettero a guardarmi. Il gentiluomo veniva da Firenze e portava a noi la somma di 40.000 ducati d'oro che a nome della sua repubblica dovevamo passare all'imperatore. Firenze pagava un tributo perché gli imperiali stessero alla larga dalla Toscana. Dissi al signor Niccolò Machiavelli quanto fossero fortunati i fiorentini ad essersi accordati tenendo così lontana la guerra. Noi invece non solo pagavamo tributi ma dovevamo rifornire di vettovaglie l'esercito tedesco che poi, alla pare di quello francese e degli eserciti di ogni specie, faceva ruberie e scorerie nelle nostre campagne. Intanto il Capilupi mi aveva mostrato un dispaccio che ci avvertiva come Vicenza si fosse ribellata ai francesi e consegnata ai veneziani. Non una buona notizia. Era da credere che fosse un episodio isolato o che altre città sarebbero tornate spontaneamente a Venezia? Domandai. A volte i popoli si cavano una voglia senza pensare al poi, rispose lentamente il fiorentino come se leggesse un libro. Mi piantava gli occhi in viso e non mi dava alcun disagio. L'imperatore e i francesi, ripresi, non mi pare che si impegnino molto perché i veneziani siano in continua perdita. Forse, ormai però, la potenza di terraferma della Serenissima è sgretolata e quanto agli alleati essi giocano a tenersi a bada uno con l'altro. Veda, vostra signoria, com'è la cosa. Il re di Francia potrebbe fare una grande guerra e non vuole. L'imperatore vorrebbe farla e non può. Signor Machiavelli, dissi con un moto spontaneo. Ma se il re e l'imperatore non mi aiuteranno a liberare mio marito, chi potrà farlo? Io confido nel papa. Credete che sopraggiungeranno altri ostacoli? Nessuno può saperlo. Avete questa carta sola, signora Marchesana? Non la sprecate. Papa Giulio teme che il re Luigi voglia dominare l'Italia e dominare anche lo stato della chiesa, ma non dimentica che Venezia è un grande baluardo contro l'Oriente musulmano. Tratterà con i veneziani. Siatene sicura. Lo spero, sospirai, e, cosa singolare, a quell'uomo che non avevo mai visto, scesi a confidarmi. Ho comandato a mia figlia di sposarsi contro la sua volontà e di andare a Roma a perorare la causa del padre. Forzare il volere di una figlia di 16 anni è stato duro. Per comandare le cose forti, signora, bisogna essere forti e voi lo siete. L'umanità si può usare solo nella vita privata e chi non ha altezza d'animo non può comandare uno stato. Non rammento tutto il nostro colloquio, che fu breve. Quel fiorentino mi aveva offerto allora una risposta indiretta e adesso le sue parole, senza mitezza ma nitide, mi esaudivano. Non mi tentava più la lusinga della debolezza o quella dell'obbedienza di moglie. ero nel mio diritto, confortato dalla ragione. Sapevo ora come rispondere a Francesco e in qual modo negali mio figlio in ostaggio. Avrei imposto, non pregato. Solo a Dio dovevano salire le mie preghiere. Ad una pausa di giorni apparentemente quieti segui uno scoppio inaspettato, ma non del tutto, che sommosse le mie attese. Ludovico di Canossa, nostro ambasciatore, giunse da Roma e con l'aria di chiedere poca cosa, mi disse perché era stato mandato da Papa Giulio. Aveva l'ordine di condurre Federico a Roma ostaggio di sua santità, da lui garantito ai veneziani. Federico, figlio mio, sei il bersaglio del mondo, dico con un'appassionata compassione, non priva di un doloroso orgoglio. Il pontefice era la sola carta da giocare. Aveva lasciato intendere quell'enigmatico segretario fiorentino, eppure non mi beffavo di lui. La sua lezione agiva. Federico a Roma, ospite della sorella Eleonora, sposa al nipote del pontefice della zia Elisabetta in quella corte grandiosa, sotto la più alta autorità morale del mondo, inquietava meno di Federico in Germania o in Francia o a Venezia. Tuttavia sarebbe stato tanto lontano. Non lo avrei più vigilato minuto su minuto. Avevo a moltissimi amici che si dicevano perdutamente devoti alle mie cause, ma all'autorità del Vaticano poteva schiacciare tutti. Roma era una città liberissima. Facilmente vi correva il veleno. Da ogni vicolo uscivano fulmine e ischerani pronti ad uccidere. Dovevo fidarmi. E quanto? Eppure mi accorsi che rifiutare non era più possibile. Francesco bestemmiava me e la mia ostinazione dal fondo della torresella. Per Venezia insistevano disumane calunnie sulla mia gelida brama di regnare. Perfino Giulio II urlò che mio marito non era prigioniero dei veneziani, ma di una puttana ribalda. Ormai l'epiteto era allogorato. Non mi commuoveva nemmeno più. Il caldo dell'estate preme sui muri e sulle volte, alita sui camminamenti di castello. Stiamo sempre sui torrioni travasi di verzura e di fiori, sotto tendaggi tesi sulle corde per ripararci dal sole. E respiriamo a folate le lievissime brezze del lago. Lassù arrivano col fiato ansante i miei informatori e oratori. L'impareggiabile Ludovico di Canossa, pronto a levigare di toni benigni le spinose mie richieste. Ludovico Brognolo, Jacopo Datri da Parigi, il Capilupi, un po' da tutte le parti. Il folenghino delle missive difficili, talora finto pazzo, ma il più attento e scaltro di tutti. E proprio per questo da usare con parsimonia. Sulla mia ultima condizione. Sono irremovibile. Accetto che Federico vada a Roma, ma decido che egli non si muoverà finché suo padre non sarà tornato a Mantova. Poiché l'opposta io, donna, la condizione di così elementare sicurezza per il nostro Stato e per la quiete del popolo. Sembra rispettosa, diffidente e provocatoria, ma non cedo. È un giorno da campare. Quel 9 luglio, quando Pirro mi porta al dispaccio del Brognolo. Ho vinto su tutta la linea. Ho proprio vinto. Seppure poco volentieri, Venezia restituisce Francesco, libero da qualsiasi impegno e lo rimette al potere papale. Federico non andrà a Venezia, ma a Roma. Abiterà al Belvedere, nel punto più ridente del Colle Vaticano. Eleonora ed Elisabetta, sorella e zia, lo visiteranno e lo ospiteranno al loro piacere. Appena mio figlio si metterà in via per Bologna, dove lo attende Papa Giulio, anche Francesco si metterà in via da Venezia per ritornare a casa. Una cosa volevo ancora, e ottenni anche questa. Il Papa si impegnò a non consegnare mai, per nessun motivo, Federico ai Veneziani. Tutto era pesato, contrassegnato, firmato. Radunai il popolo al broletto e debbi l'applauso unanime, quasi tempestoso, dei nostri sudditi. Guardavo quella folla compatta, caldata, tesa verso la finestra dell'arengo, fissarmi con un puro slancio affettivo. Sorridente mi sollevai su me stessa. Avevo sfidato mezzo mondo, imperatore, re di Francia, Venezia, Papa, e senza mancare ai minimi doveri di cancelleria e della podesteria. Mi presi la rivincita di scrivere a Ludovico Brognolo una lettera umile e superba, informata che il Papa avrebbe intercesso per me presso mio marito, tuttora rabbioso, lo facevo pregare che non si desse tanto disturbo. Le mie azioni erano pubbliche, le mie ragioni erano sempre state giuste. Sapevo in coscienza di aver agito per il bene dello Stato e della famiglia, e nessuno più del Papa, conoscitore del cuore umano, mi poteva giudicare diversamente. Così fui sola davanti a Francesco e lo aspettai serena. Da Roma un amico mi scriveva, vi piacerà sapere che col Papa il vostro Federico si intende benissimo. Insieme scherzano e giocano a carte fra alte esclamazioni di Giulio, alle quali fa ecco la risata del fanciullo. Bellissime sono le passeggiate istruttive che quasi ogni giorno compie in gruppo con uomini sapienti. Mi è andato in Campidoglio, alle terme di Tito e a una villa di Agostino Chigi nella campagna, presso le allumiere del Papa, a dieci miglia da Civitavecchia, tra boschi e prati fitti di verde. Intorno a lui ispira aria di amorosa curiosità ed è singolare che al suo nome si riferisca poco l'attributo di ostaggio, figurandogli un piccolo re che per gioco si finga prigioniero. Il Papa ha preso ad amarlo oltremodo e vuole che Raffaello Durbino lo ritragga nelle stanze dove questo mostro della natura lascia il sigillo del suo pennello divino. Al variare dei messaggi il pontefice tuona di voler mandare il fanciullo a prendere il posto del padre nella torresella Venezia, ma lo fa quando il vostro illustre consorte suo gonfaloniere mostra poca risoluzione a combattere i francesi, ora che da alleati sono diventati nemici della chiesa. Per nessuna causa, ve ne do garanzia, lo manderebbe. Non ho mai visto Giulio II, non mi sono mai misurata con la sua gigantesca presenza fisica. L'ho sempre considerato, anche se di 31 anni più giovane, un vecchio feroce e indistruttibile. Ma quando era sulla scena, ogni minuto ricominciavo a scontrarmi con lui in una magnifica lotta. È stato il solo avversario che ha osato chiamarmi puttana e l'ha fatto con lo stesso mio marito. Ho lottato con Giulio perché dovevo lottare. Sono ricorsa ad una legione di potentati e di amici sollecitandoli in modi diversi e ho chiesto persino aiuto alla scienza astrologica. Di mattina si accendono lampade e candele nei doppieri. C'è poca luce in queste giornate di nebbia novembrina, nebbia fredda che si ammanta tutta sulle spalle a tradimento. All'alba, già in ogni sala e stanza ardono dei camini grandi con fuochi attizzati da schiere di servi. Ho raccomandato alla gente di camera di raddoppiare la legna nella sala dove verrà a visitare Francesco il medico inviato dal Papa per riscontrare lo stato di salute del suo gonfaloniere. Giulio è sempre più impaziente di mandarlo a battaglia. I pretesti per non scendere in campo li abbiamo consumati ad uno ad uno. Il migliore, il riferirci all'autorità imperiale che ci ingiungeva di non intraprendere azioni contro Ferrara, è stato accompagnato da infiniti espedienti. Poi la cancelleria vaticana è intervenuta. L'imperatore ha sovrapposto idea a idea e per l'ennesima volta le cose sono mutate. Anche Venezia tempesta, pungolando il pontefice. Per tentare la sorte abbiamo chiesto la restituzione di Asola, Lonato, Peschiera e Sirmione, che secondo i patti della Lega di Cambreci dovevano essere consegnati. I veneziani non ci hanno dato ascolto. Hanno solo proposto una paga da condottiero tanto esigua da essere quasi offensiva. Buon pretesto per rispondere che il marchese non si degnava di simili proposte che non avrebbe accettato nemmeno quando era putelo. Instancabili, i veneziani continuano a spedire qui genti cerimoniose che con quel loro parlare cantante celebrano le glorie della virtù militare di Francesco, dilungandosi in orazioni retoriche dedicate al restitutore dell'antica libertà d'Italia. Ero determinata a pascerli tutti di parole. Cosa non facile con Giulio II piantato a Bologna pronto a infierire contro di noi, mentre in segreto i miei fratelli mi incitavano ad operare per loro. Così siamo a questo giorno di novembre e ognuno in castello attende col fiato sospeso l'arrivo del medico papale. Si sa che è bolognese e il suo nome è Maestro Zannettino. Sono scesa di mattina presto nelle stanze di Francesco situate sotto le mie e ho disposto la scena. A metà sala una specie di tenda stesa fra bastoni verticalmente rizzati lascia intravedere per trasparenza sagome di figure. Di là si indovina la forma di un uomo sdraiato. È Francesco. Di qua Tolomeo Spagnoli con la sua mutria fainesca. È l'allegro a tutti i costi arcidiacono di gabbioneta. Prima che il medico arrivi alzo la tenda e mi chino verso Francesco disteso nel suo letto da campo. Per lusingarlo e rincurarlo mi fingo impensierita perché non ha affatto l'aspetto di un malato. Recito la meraviglia scenica. Esprimo il dubbio di poter uscire bene dall'inganno. Cambio discorso. Gli dico che questo maestro Zannettino pare persona a modo e costa poco. L'arcidiacono di gabbioneta gli pagherà venti ducati d'oro per il suo risponso. Francesco mi fa cenno di non parlare forte. È prudente non essere ascoltati ma non è solo questo ad appenarlo. Lo vedo inquieto e imbarazzato. Gli giro intorno, giocherello con la sua camicia aperta sul collo, prendo un pettine e gli raviò accuratamente i capelli a zazzera appena schiariti da fili grigi. Mi accorgo di muovermi con lievissimi ritmi femminei. Francesco, gli dico, e la mia voce è resa capziosa da una tonalità fonda appena esitante. Francesco, salirete questa sera nelle mie camere. Vi aspetterò. Con il vostro esercito di donzelle, dice lui sorpreso, non mi obbligate a trovarmi con quelle pazze o scapperò lontano. La vostra favorita, Boiarda, mi ha messo in casa un tale fuoco che non so se riuscirò a spegnerlo. Alda Boiarda non c'entra ed è già tornata dai suoi parenti a Scandiano. Mi dispiace per il Bibiena che l'amava. Aggiungo con accento leggero. Venendo a Mantova non la troverà più. Subito riprendo il tono lusinghevole. Non dubitate, non ci sarà nessuno stasera. Francesco si alza sulla vita, mi contempla, tra circospetto e interrogativo come se temesse di sbagliare. Saremo soli, dico io un po' più superficialmente da femmina che pensa poco. È tanto tempo che soli non lo siamo più, non vi pare? Questa volta ha capito e ride, incerto e già complice. Fa per afferrarmi ma mi svincolo e sussurrandogli addio. A stasera. Fuggo per la piccola scala incastrata tra i muri che porta in alto ai miei appartamenti. Salgo qualche scalino, ritorno giù a passo felpato, resto ferma ad ascoltare i vari tramestini nella sala. Dopotutto è legittimo alla moglie spiare quando si discute la salute del marito. È arrivato maestro Zannettino. Appoggio l'orecchio alla porticina, distingo la sua voce bolognese tra voci diverse e complimenti d'uso e di benvenuto. Poi, col suo tono gioviale, l'arcidiacono esclama. Ma guardatele in che stato sono queste piaghe. No, capitano, non dico a voi, ma a maestro Zannettino. È chiaro. L'arcidiacono cerca di evitare le ricognizioni troppo precise e tiene lontano il capitano veneziano che scorta il medico papale. Subito dopo un altro scoppio di voci e su tutte una più distinta, ancora quella del nostro gabbioneta. Vorrei che tutto il consiglio della Repubblica vedesse queste piaghe. Mi meraviglio che il signor Marchese possa reggersi in piedi. Ancora tramestio, un più sommesso domandare e rispondere, voci allontanate. Scorre l'acqua nel catino dove il medico si deterge le mani. La visita è sul finire. C'è un fitto parlottio fra l'arcidiacono e il capitano. Camminano in direzione della mia porticina. Un istante di pausa. Signor Marchese, sentenzia il medico. Il mal francese è assai progredito. Queste piaghe devono essere curate. Per prima cosa via gli unguenti. Lavarle e lavarle spesso con acqua distillata che farete preparare. Ecco l'arcidiacono che si intromette. Anche sua santità dice che le unzioni peggiorano il male. Che cosa dobbiamo riferire al Santo Padre e alla Signoria di Venezia? Trattengo il respiro. È mia opinione, lascia cadere dall'alto maestro Zannettino, che in queste condizioni sia impossibile che il signor Marchese cavalchi per la guerra di Ferrara. Io stesso riferirò a sua beatitudine il risultato del consulto. Signor Marchese, interviene la voce cadenzata del capitano veneziano. Tutti aspettano che scendiate in campo. C'è un momento di silenzio. Poi l'arcidiacono protesta. Ma non avete sentito il risponso, capitano? Questa ampollina di liquido mercuriale terrà luogo delle unzioni e farà miracoli, annuncia per nulla turbata la voce bolognese. E lavare, lavare molto, ricordatelo. Di nuovo la voce del capitano. Eppure a vedervi, signor Marchese, non sembrate così ammalato. Questa malattia, accondiscende a spiegare il medico, non sempre si manifesta con evidenti segni esteriori. Le piaghe ci sono, ma se il Marchese si curerà bene potrà fare tutte le guerre che vorrà. Avevo udito abbastanza e trasvolando sugli stretti ed alti gradini fui presto nella mia camera da letto. Le mie donne ricamavano, senza troppa voglia, lini e broccati. Per discrezione non mi chiesero niente. Grazie a tutti.